Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video, in questo video vi mostro gli acquisti che ho fatto d'attività. Sono andata perché essenzialmente volevo vedere di trovare qualcosa della nuova linea Ecos, quella all'alga spirulina. Non c'era niente, l'unico prodotto che ho trovato era il detergente intimo, ma io con i prodotti Ecos per quanto riguarda i detergenti intimi non mi trovo bene, quindi non l'ho preso. Ma visto che ero lì e c'erano tante cose in offerta, ho preso un po' di cose che mi servivano. Allora, avevo bisogno di un detersivo per i piatti, per la lavastoviglie, volevo vedere se c'era il Dual Power quello green, ma non c'era, e quindi sono andata su quello che costava meno, e quindi il Dual Power quello normale a limone, quello non green. Ecco, questo qua l'ho pagato 2,99, mamma mia che profumo forte, comunque vedremo com'è. Poi ho preso il Neutromed intimo lenitivo, questo qua era scontato e veniva a 99 centesimi, quindi l'ho acquistato. Ho preso poi i tazzoletti tempo, perché anche questi venivano a 99 centesimi, quindi l'ho preso un pacco perché li avevo finiti. E sempre a 99 centesimi ho preso due pacchi di tovaglioli, questi qua, mi scordo sempre di prendere i tovaglioli. Io ho visti a 99 centesimi, ho preso i due pacchi, questi qua sono da 100 tovaglioli. Tra l'altro è anche una marca economica, ma valida, quindi io vi consiglio i prodotti di questo marchio. Poi ho preso il sapone alga per il bucato, sempre 99 centesimi, sì. Questo qua è colpa del signor JJ, io mi ero scordata dell'esistenza di questo prodotto. Poi l'ho mostrato in un video, quindi niente, l'ho visto e l'ho preso. Non ricordo se questo ha buon inci o no, è scritto bianco su sfondo giallo, quindi non riesco a leggere niente. Comunque Gian Giuseppe, se vedi questo video, non lo so, è naturale, è vero? Ha un buon inci, c'è scritto ecologico, a regola sì. Poi ho preso Hawaiian Tropic, era scontato 9,90, la protezione solare 50 per i tatuaggi, ho voluto prendere questa, e in omaggio con l'acquisto di un solare Hawaiian Tropic ti davano il balsamo labbra con protezione 30. Ho preso 11,46 euro la protezione 30, dovevo un po' ricomprare i solari, quindi niente, sono andata un po' così a risparmio. Poi ho preso Vichinette, questo qua è il disincrostante in polvere. Io ce l'ho già, ne utilizzerò uno l'anno, però siccome nel mio WC l'acqua qui nella mia città è molto dura, e quindi il WC si incrossa, diventa marrone, come tipo i bagni delle stazioni. Ho provato tutti i prodotti, buttavo anche una volta ogni tantissimo un pochino di acido per cercare di sogliere il marrone che si formava, il nero insomma, del calcare. Con l'acido si funzionava, ma dopo un giorno tornava come prima. Con questo prodotto invece rimane pulito per veramente quasi un anno, quindi in realtà con questa confezione ci va davanti due anni. È una bustina, la mettete nel WC la sera prima di andare a letto, qui si forma poi una schiuma che si gonfia dentro al WC, il giorno dopo tirate l'acqua con lo scogolino, pulite un pochino, e vi viene il WC come nuovo. Comunque è un prodotto fantastico, mi esalta questo prodotto. Poi ho preso i dischetti 1,49 euro di Avilea, mi servono per la gatta, ho preso quelli che costavano meno, li ho già provati e non sono male. Poi ho preso Chantecler, BERT, il sapone per i piatti, quello della linea naturale, di pollo ergenico, testato ai metalli, 100% di attivi di origine vegetale, biodegradabili, formula sgrassante, limone e basilico, una buona profumazione, mi serviva un contenitore così piccolo da tenere nell'acquaio, perché il dispenser che avevo si è rotto e quindi sono andata a prendere qualcosa di economico, ma di piccolo da tenere nell'acquaio, e questo ho pagato 1,39 euro. Poi a 1,99 euro era scontato, ho preso del marchio Saponificio Veneziano, il sapone di marsilia vegetale, cenere vulcanica, l'ho preso solo perché c'era scritto cenere vulcanica, ma in viso e corpo, l'inci sinceramente non l'ho guardato, c'erano tre profumazioni, io ho preso questa, sentiamola, anche buona, però ci sento il limone, vabbè comunque ho preso questa qua. Ultimi due prodotti, allora ho preso i 3,19 euro, il cura lavastoviglie sole, cura lavatrice sole, che è secondo me il miglior cura lavatrice di tutti, e poi a 3,99 euro in realtà ce ne sono due dentro, quindi l'ho utilizzato due volte, trovo che abbia un buonissimo rapporto qualità-prezzo, profuma la lavatrice, la lava bene, e quindi a me questo qua piace. Infine a 99 centesimi ho preso questi cattura colori Super 5, io, sapete che io utilizzo solo quelli della Gamex, che costano 1 euro e sono 10. C'erano questi in offerta a 99 centesimi, 10 fogli più 2 omaggi, ho detto vabbè li provo e guardo come sono. Ho un po' paura sinceramente a utilizzare qualcosa che non sia Gamex, per quanto riguarda i fogliettini cattura colore, ma vedremo. Comunque c'è da dire anche una cosa, che già così al tatto sono dei fogliettini un po' così, come anche quelli della Grey, cioè al tatto non è che fissacche di fogliettini, invece quelli che uso io della Gamex sono proprio dei bei fogli spessi, morbidi. Comunque vabbè, proverò e vi farò sapere. Questi sono stati gli acquisti che ho fatto al di vuotà. Fatemi sapere se avete provato qualcosa, se vi consigliate qualcosa da provare. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale, perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Grazie a tutti!